Nell'ultima puntata di C'è posta per te è accaduto un evento che non era mai successo prima, in tanti anni del programma. Nel tentativo di riappacificamento tra padre e figlia è successa una cosa che ha sopprito la stessa madre dei Filippi. April è una ragazza dal passato non facile, cresciuta col padre Douglas, non ha mai citato la nuova compagna di quest'ultimo e per questo ha 17 anni e scappata di casa. «Scusa perché non sono la figlia che meriti, scusa perché ti ho fatto soffrire i 24 anni. Il giorno del mio compleanno, ovvero domani, vorrei un regalo grande, i tuoi sorrisi che solo tu puoi darmi, pini di gioia, il tuo tempo, riavere il mio papà», ha detto April era padre in studio con la fidanzata Lucrezia. Il padre ha replicato «Con la mia compagna sono nati tre bambini, non ho differenze tra la prima e l'ultima, con la testa ci sono, col cuore non ci sono più di tanto, mi ha fatto soffrire, non ci sono lei nella mia vita o altri figli». E a questo punto April ha abbandonato lo studio. Per fortuna Maria dei Filippi è riuscito a farla rientrare e dopo una lunga conversazione, aiutati anche dalle parole gentili di Lucrezia, padre e figlia sono riuniti in un lungo abbraccio. Tutto è bene, ciò che finisce è bene.